Dall'estate di Bari all'autunno grigio di Bologna, i Rosso Blu senta entusiasmare, hanno incamerato il primo punticino in campionato. Sfogo sincero di Carletto Mazzone in vista del ritorno UEFA. Se mancano 5-6 titolari, perché critiche così severe? Un po' di pazienza insomma, il vero Bologna non è ancora questo? A me sembra che a qualcuno sfuggi. Ieri mancano 5 titolari molto importanti di questa squadra. Giochiamo ogni tre giorni e è chiaro che poi andiamo in difficoltà sulla corsa. A questo gioco se non si corre dura per fare risultati, innanzitutto giocare. Non facciamo finta di non sapere. Adesso stiamo sempre in affanno, sempre in difficoltà, giocatori che perdono le sedute di allenamento. Questo a me dispiace. Dispiace perché non c'è un'analisi precisa, non c'è serenità nei giudizi. Il primo tempo buono, il secondo tempo male. Non c'è bisogno che venga scritto. Ma il Bologna di questi tempi può rinunciare contemporaneamente a Kenneth Anderson e anche a Igor Colivano? Ecco, questi sono due giocatori bravissimi. Senza contare Paramatti, Magoni e Mangone ieri. Questi sono 5 titolari che l'anno scorso erano titolari. Non è che ho fatti diventare titolari io quest'anno. Con tutto il rispetto degli altri che stanno stringendo i denti. C'è gente che gioca fuori ruolo. C'è gente come Signori che sta ritrovando dopo un anno e mezzo di difficoltà, sta ritrovando il passo, ma ancora non è il passo. Che cosa la preoccupa di più dello sport in Lisbona? Non mi è parsa una squadra entusiasmante sotto il profilo tattico? Ma che... la voglia di rivincita, la voglia di riscatto. Dobbiamo fare attenzione.